Ora se permettete vorrei dire la mia accenda, io non sono uno scienziato e queste sono questioni spinose, da quello che ne sappiamo noi essere gay o trans non dipende da alcuna scelta personale o dalle modi o da condizionamenti sociali o dall'educazione, da quello che l'opinione pubblica ci dice, la disforia di genere deriva da cose che accadono durante la gravidanza che rendono il cervello maschile piuttosto che femminile, o viceversa, questo dovrebbe rispondere a coloro i quali si chiedono come sia possibile una cosa del genere, dato che noi, neuroscientificamente parlando, fino a prova contraria non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Secondo le neuroscienze la mente è un prodotto del cervello, quindi non è che noi abbiamo la mente intrapponata dentro un corpo estraneo, la nostra mente è un prodotto di un organo del nostro corpo, cioè il cervello, questo ovviamente fa parte di una questione molto spinosa, cioè il rapporto mente-cervello, che richiede altri approfondimenti, per ora sono costretto a dare per buona la teoria ufficiale delle neuroscienze contemporanee. Se noi siamo un corpo e il nostro cervello fa parte di esso allora com'è possibile avere un cervello femminile in un corpo maschile o viceversa, gli scienziati dicono che dipende dagli ormoni nel cervello del feto, è una cosa che accade durante la gestazione e forse c'è una predisposizione genetica, in realtà non ci sono certezze. Quando ciò accade c'è un enorme disagio per la persona, sentirsi donna ed avere un corpo maschile o viceversa è una condizione in cui io non mi vorrei mai ritrovare. È comprensibile allora perché il trans vuole a tutti i costi cambiare sesso, però ci sono persone che non si identificano come non binari. A partire da quei trans che non si operano e che nemmeno seguono terapie ormonali, i trans non medicalizzati vengono chiamati, che vogliono essere riconosciuti come persone del sesso opposto. Io che non sono trans mi chiedo come sia possibile che una persona in quelle condizioni non voglia adeguare effettivamente il suo corpo alla sua identità di genere. Vestirsi da donna è sufficiente? Se ti sente donna lo fai solo per farlo vedere agli altri o lo fai per cercare di convincerti da solo? Perdonatemi, ma io sono ignorante in materia, e non essendo coinvolto in prima persona non riesco proprio a comprendere. Certamente evitare una terapia ormonale che danneggia l'organismo con la quale rischi il cancro ed evitare l'intervento sarebbe una grande cosa. Quando fui operato per l'appendicite per me fu una tragedia. Non vorrei mai più ritornare sotto i ferri, eppure quello era un normalissimo intervento, una socchezza rispetto agli interventi a cui viene sottoposto un transessuale. Io non vorrei mai essere nei loro panni, lo ripeto. Riguardo il genere non binario, comprendo che ci sono persone nascono intersessuali, ma come spiegavo prima il sesso non è il genere. Se esistono gli interessuali, dobbiamo imparare a capire come rispettare e relazionarci con quelle persone, che non hanno un sesso biologico perfettamente classificabile come maschile o femminile, di fatto però sono casi rari. La questione del genere non binario mi lascia perplesso, come mai ci sarebbero persone che si identificano come neutre o fluide, quelle persone a prescindere dal sesso biologico dicono di sentirsi uomini, o donne, o entrambe, o nessuno, o fluide, questa cosa, perdonatemi ma mi lascia perplesso, farò delle ricerche sperando di capirci qualcosa. Bauman offre una lettura interessante di questo fenomeno dal punto di vista sociologico, il quale spiega che la globalizzazione ci ha fatto perdere le certezze che prima avevamo, come quella sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, ci ha offerto delle opportunità, ci dà della libertà ma ci ha tolto delle sicurezze. Bauman fu quello che ha teorizzato la modernità liquida, dove tutto, sia l'amore, l'amicizia, l'identità culturale e quella di genere, non sono più solidi ma liquidi o fluidi. Io non so ora se dal punto di vista medico e psicologico questa incertezza e questo disorientamento sull'identità di genere possa essere un problema, però secondo me deve far riflettere come oggi, nell'era della globalizzazione, non sappiamo più chi siamo. Spero che questi tre video vi siano piaciuti, che sia stato tutto chiaro, che non abbiate frainteso quello che ho detto e che non ci siano malintesi. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like, a condividere e di recuperare i video vecchi se ve li siete persi. Un saluto, alla prossima!